Buonasera a tutti, grazie per aver deciso di trascorrere un po' del vostro tempo in nostra compagnia questa sera. Siamo vicinissimi al Natale, quindi immagino che gli impegni di tutti quanti noi siano tantissimi, però questa sarà una mezz'ora, saranno tre quarti d'ora, sicuramente in cui tratteremo un argomento molto molto interessante, soprattutto un argomento che sta a cuore a tutti quanti noi, ovvero il nostro territorio, il nostro bel sud. Questa sera io ho l'enorme piacere di presentare, oltre che un amico, oramai posso permettermi, e che è un immenso onore per me poter godere di questa amicizia, ovvero Lino Patruno, che tutti quanti... Molti di voi qui presenti in sala conoscerete, perché Lino è stato per 13 lunghi anni direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, anche direttore di un importante emittente televisiva, insegna comunicazione all'Università di Bari, però andiamo oltre, perché altrimenti sono tante le mansioni di cui Lino offre il suo sapere. Lino però in tutto questo tempo non ha mai smesso di occuparsi di quella che è la storia del nostro territorio, in qualche modo occuparsi del nostro sud e soprattutto delle eccellenze del nostro sud, che è un po' l'argomento cardine del libro che affronteremo questa sera. Io ho conosciuto Lino nel 2011, quando abbiamo parlato di un altro libro che raccontava del sud in maniera particolare, perché si parlava del sud e di quello che il sud era stato, è stato e di quello che il sud potrà essere. Parliamo di fuoco del sud, le ribollenti galassie dei movimenti meridionali. Già il titolo non faceva altro che parlare del sud quasi come fosse un vulcano ed è quella l'essenza della nostra terra, la vera essenza della nostra terra. Con Ricomincio da sud Lino Patrono non ha fatto altro che concentrare ancora di più l'attenzione su quelle che sono le eccellenze, appunto come dicevo qualche istante fa, del nostro territorio. Questo è un libro molto molto accattivante, perché tramite queste 247 pagine non si fa altro che incuriosirsi sempre di più, semplicemente perché sono tanti gli aspetti del nostro territorio così amato, però molto spesso sconosciuto a noi stessi. Vorrei subito rubare ancora qualche secondo per fare i dovuti ringraziamenti, perché magari poi alla fine dimentichiamo Lino perché ci facciamo prendere appunto da quello che è l'argomento del libro. Una grazia particolare va allo Spazio 17 che ci ospita questa sera e che da un po' di tempo ha deciso di sposare questa causa tutta dedicata alla cultura e soprattutto allo stare bene in maniera piacevole, strizzando appunto l'occhio a quelle che sono le arti presenti nella nostra Puglia, che si tratti di scrittori come in questo caso, così come si può trattare come è avvenuto in passato anche di buona musica insieme appunto a musicisti del nostro territorio. Un grazie particolare a Vincenzo Mascoli per lo Spazio 17, un grazie particolare anche all'amministrazione comunale che è sempre vicino a questa iniziativa e questa sera qui con noi c'è Giuseppe Dintrono, che ringrazio perché sono giorni importanti per la città di Corato, domani lì noi abbiamo l'inaugurazione del teatro comunale che appunto rivede la luce dopo lunghi 27 anni. Un grazie particolare anche alla V Production nella persona di Ottavio Mastrapasqua che questa sera si occuperà appunto delle riprese, video, nonché fotografie che poi ritroveremo, ovvero Ottavio, sul sito appunto della sua azienda a V Production. Lino la parola a te. Grazie a voi dalla vostra presenza. Io ho lungamente e tenacemente cercato di convincere Micaela di non farla oggi questa cosa, di non farla prima di Natale perché ci vuole un po' di crudeltà mentale, sottrarre la gente dalle cose pre-natalizie per occuparsi. Avete già fatto tutti i regali, meno male. Infatti non ho visto grande traffico, temevo peggio. Francesco c'è? Non c'è? C'è. No, un'altra cosa dovrò dire Francesco. Io cerco sempre di non fare le presentazioni con Micaela. Vabbè qua stiamo in un ambiente di amici perché quando le presentazioni le fa Micaela guardano tutti Micaela e non me. Ed è un handicap. Vabbè però stasera diciamo è una cosa diversa. Allora questo libro, tanto per cominciare la copertina, è una capra. Uno che non lo sa dice ma che fa sta capra qua? La capra è un simbolo del mezzogiorno, un'esemplificazione del mezzogiorno perché è un animale umile, tenace, che dà il più col meno. È in questa fotografia fra l'altro la testa alta, nel senso che simboleggia il sud che non vuole abbassare la testa e vuole così esprimere il meglio di se stesso. Un altro libro sul mezzogiorno forse non era necessario perché, io ho fatto questo libro qui, perché mi sono stancato a sentire parlare del mezzogiorno come una malattia del paese, come una zavorra, come un qualcosa che non funziona, come un problema. Io andando in giro ho capito che il sud non è il problema del paese, è la soluzione del problema del paese e che non è una malattia ma è una risorsa. Fra l'altro stiamo in un ambiente che è significativo da questo punto di vista di creatività, di capacità, di espressione del meglio del mezzogiorno, pieno di colori e anche di umori che ci appartengono. Mentre finora il sud è sempre stato rappresentato al contrario, come una parte del paese che se c'è è una disgrazia, se non c'è è meglio. E invece io dico nel libro e dimostro questa cosa che c'è bisogno di più sud e non di meno sud e che chi accusa il sud di sprecare risorse, per esempio, non capisce che invece c'è stato finora uno spreco di sud, nel senso che non si è puntato sul sud quanto bisognava fare. Il titolo del libro Ricomincio dal sud e qui il futuro d'Italia. Se questo paese vuole ricominciare a crescere quanto è nelle sue possibilità, vuole ricominciare ad essere quello che in un non recente purtroppo passato è stato, deve ricominciare a farlo dal mezzogiorno, perché qui è il futuro del paese. E per dimostrare questo voglio fare anche un'altra premessa. Non è che io adesso sto raccontando una favoletta natalizia, una lice nel paese delle meraviglie, racconto la Befana, eccetera. Io sono consapevole dei problemi che il mezzogiorno ha, sono problemi soprattutto che riguardano il lavoro, dei nostri giovani che vanno via, delle cose che non funzionano e tutto il resto. Però questo è il mezzogiorno che noi conosciamo, lo conosciamo fin troppo bene, lo subiamo anche, lo viviamo ogni giorno nei suoi aspetti peggiori. C'è però un altro sud del quale appunto nessuno parla mai ed è il bicchiere mezzo pieno, non il bicchiere mezzo vuoto. Ed è un sud che era sconosciuto a me stesso, che pure ho fatto il direttore del giornale per tanto tempo, ma faccio il giornalista da quanto sono nato, più o meno. Eppure, nonostante la mia conoscenza, diciamo, del mezzogiorno, non era così approfondita come sono riuscito a farla andando in giro per il mezzogiorno e scoprendo cose che sono, la cosa più incredibile, che sono sconosciute agli stessi meridionali. Non dico a chi invece ci rappresenta sempre come il peggio del peggio, ma i meridionali stessi non sono consapevoli di tutto questo. Esserne consapevoli significa avere la coscienza delle cose che si fanno nonostante tutti i problemi e quindi capire che nonostante tutte le cose si possono fare. Si dice che la storia non si fa con i se e con i ma, si fa con i nonostante. E questo mezzogiorno è un mezzogiorno reale come è reale quello che è pieno di problemi, pieno di cose che non vanno e tutto il resto. Allora perché questo paese per riprendere a crescere deve ripartire dal sud? Ci sono pochi e significativi dati che lo dicono e che conoscono anche nel resto d'Italia, fanno finta di niente, perché noi restiamo legati ad un modello economico che è partito nel 150 anni fa, nel 1861, e il modello è questo, la locomotiva del nord. Se funziona la locomotiva del nord, se va avanti la locomotiva del nord, se ha il carbone, il carbone o le energie elettriche eccetera, la locomotiva del nord, il sud gli andrà presso come un vagone, un vagone così, come bagaglio appresso. Se non funziona la locomotiva del nord deve soffrire anche il sud. Questo modello ha il fiato corto, ormai non va più da nessuna parte. La dimostrazione è che da vent'anni noi non solo non cresciamo, ma andiamo indietro. Lasciamo stare il problema, non sono state fatte le riforme, tutto quello che noi vogliamo, ma continuando a puntare solo su una parte del paese e ignorando le potenzialità dell'altra parte del paese, noi non potremo andare oltre la nostra attuale posizione, che è sì, quella tra i dieci paesi più ricchi del mondo, ma potremmo essere molto di più di quello che siamo. Pensate che la Germania, che è quello che è, all'inizio degli anni 2000, 2000, 2001, aveva gli stessi attuali problemi dell'Italia. Un po' li ha superati facendo delle riforme che noi non abbiamo mai voluto fare, perché siamo un paese in cui tutto è ingessato, ma l'ha fatto unificando la Germania ovest alla Germania est, cioè facendo la stessa operazione che l'Italia dovrebbe fare fra il nord e il sud dell'Italia. Dopo 20 anni, dal 1889, la Germania est è allo stesso livello del sud italiano rispetto al nord, però per unificare le due parti del paese, la Germania ha speso 50 volte quanto ha speso la cassa per il mezzogiorno in 40 anni. Pensate che cosa significa, questi che ci dicono sempre avete avuto un sacco di soldi, vi diamo un sacco di soldi e tutto il resto. Lo dice soprattutto quel nazifascista, nazifascista, che si chiama, io lo ringrazio perché ha ispirato molto il mio libro, si chiama Matteo Salvini, quel che ogni tanto vedete sempre in televisione a fare la lezione a tutti quanti. Uno gli chiede, com'è il tempo a Milano, oppure vuoi un caffè? Lui non risponde a questo, lui attacca il disco rotto e dice, perché noi tre regioni siamo quelli che produciamo in Italia, diamo i soldi al resto del paese, ci siamo stancati di tutto questo. E' proprio così, c'è una forma di autismo, no? Continuo a ripetere questa cosa. Allora, ricomincio da sud, per riprendere a crescere il paese del puntare sul mezzogiorno. Una ricerca della Banca d'Italia, non di questo brigante che vi sta parlando. La Banca d'Italia ha stabilito, la Banca d'Italia è una delle poche ultime cose serie che stanno in Italia, finché poi, insomma, non scopriranno che manco là ci avranno un trota che si fa pagare, si fa pagare con i soldi pubblici il frigorifero. Oggi abbiamo scoperto che il trota si fa pagare pure il frigorifero, a parte il Red Bull e tutte queste storie. Laminetti la crema per la cosa qua, ma in tutte le regioni, per carità. Allora, ha stabilito che un euro pubblico investito nel mezzogiorno diventa un euro e quaranta per l'intero paese. Un euro pubblico investito al nord diventa un euro e dieci per l'intero paese. Quindi vedete, a parte la mia difficoltosa pronuncia di euro, come un investimento al sud diventa produttivo tre volte di più di un investimento che si continua a fare al nord. Ma perché questa è la legge delle economie mature? Ci sta un'altra legge economica, quella dell'utilità marginale decrescente. Se tu continui a puntare in una direzione, l'utilità sarà sempre decrescente. Se dai cento a uno che ha già mille, quello non sarà una gente poche, ma se le dai a uno che ha cinquecento, quello cresce. Tanto per dire una cosa, sapete qual è il paese al mondo che in questo momento, proprio in base alla legge della capacità di sviluppo partendo dal basso, cresce più in questo momento? Non lo sapete. Vi sfido, vi sfido. è il Ghana, 14,5% all'anno, perché è come il nostro sud, un posto dove sta moltissimo da fare e lì lo stanno facendo. Un'altra ragione per la quale bisogna puntare sul mezzogiorno è un altro dato economico. Al mezzogiorno c'è un cosiddetto tasso di occupazione, che non è una bestemmia, cioè è la percentuale della popolazione che lavora rispetto alla popolazione complessiva, che è del 20% in meno rispetto al centro nord. Ora voi immaginate se nel motore, per un tempo si diceva metti un tigre nel motore, la pubblicità della esso, se nel motore italiano si riuscisse a mettere questo 20% di potenzialità, di entusiasmo, di talenti, di voglia di fare e tutto il resto, 20 che comprende già la disoccupazione, il resto è dato dalla gente, soprattutto donne, che hanno rinunciato a cercare questa occupazione perché non ci sono le condizioni per che questo avvenga. Allora, proprio perché c'è cosa? Tu, Michele, mi devi fare domanda o vado io come un treno? Allora, va bene. No, no, ve lo dico per il vostro interesse, perché qua, comunque, cerchiamo di tenere su... Allora, cosa serve perché si debba puntare sul mezzogiorno? Perché il mezzogiorno possa essere il volano dello sviluppo del paese, la soluzione del problema del paese, quello che salverà l'Italia, i terroni, salveranno l'Italia se solo lo capisco. Ci serve non soldi, perché siccome ci accusano di aver avuto molti soldi, di averli sprecati e tutto il resto, abbiamo visto quante ne abbiamo avuti in confronto solamente alla Germania, io dico noi vogliamo opere di bene, che significa metterci allo stesso livello di infrastrutture del resto del paese, una differenza del 40%. Io, per esempio, non ho mai capito, non riuscirò mai a capirlo, lo capisco, però non lo capirò, stai attento che sei qua, lo capirò solamente quando riuscirò io e qualche altro a far cacciare il signor Moretti da amministratore delegato delle ferrovie dello Stato. Non ho mai capito, per esempio, perché l'alta velocità ferroviaria deve stare tutta al nord. Qualcuno c'è una risposta? Il signor Moretti, consultato su questo, ha risposto. Tanto per cominciare, lui è uno che dice, io non vi do i treni perché non ci sono i passeggeri e noi gli rispondiamo, non ci sono i passeggeri perché tu non ci dai i treni e facciamo sto giochino all'infinito, seriale diventa. Ha risposto, certo, io punto con l'alta velocità sul nord perché lì è una zona più sviluppata. Vedete come funziona sempre il meccanismo di puntare su una parte del paese la quale è sfiatata, non ce la fa più, non può andare oltre un certo livello rispetto a quello che ha fatto. Non ci sono neanche gli spazi per mettere i capannoni, per aprire industria e tutto il resto. Allora, l'alta velocità la fanno solamente al nord per questa ragione. Io voglio ricordare che nel 1861 c'è stata una polemica su questa famosa ferrovia Napoli-Portici che è stata la prima in Italia, 1839, e dicevano, sì ma quello era un giocattolino nelle mani di Ferdinando, di Borboni, di Franceschiello, eccetera, che andasse a fare il bagno. Quindi non era più una cosa per far vedere che per altro. Nessuno dice che in un anno quella ferrovia ha avuto 90.000 passeggeri che andavano da una parte all'asta, andavano tutta a fare il bagno in quel tempo, non avevano altro da fare, beati loro. E dicevano anche che se al sud comunque, pur avendo avuto la prima ferrovia, al momento dell'unità, c'erano 80-90 km di ferrovia, nel resto d'Italia ce ne stavano 800. È vero, va bene, d'accordo su questo. 150 anni dopo, 1200 km di alta velocità ferroviaria al nord, meno di 200, Roma-Napoli al sud. È ancora colpa del Borbone. Pensate una cosa, noi abbiamo rispetto al 1938, 1000 km in meno di ferrovia al sud. Tutte le maggiori opere ferroviarie al sud non sono state fatte dalla Repubblica. Cioè, antecedono al 1946. Matera è l'unica città in Italia che non ha le ferrovie dello Stato. La ferrovia Napoli-Bari, l'alta velocità, alta capacità, eccetera, stanno facendo, squillano le trombe, l'hanno pubblicato su tutti i giornali, conferenze stampa, eccetera, hanno fatto i primi 18 km. Gioite. A questo ritmo fra 150 anni, mi raccomando, ci rivediamo qua e vediamo che cosa hanno fatto di questa ferrovia Bari-Napoli. Allora, perché dico le infrastrutture? Perché sono i beni pubblici, il capitale sociale indispensabile per rendere competitivo un territorio rispetto ad un altro. Se tu non hai questo, non puoi andare da nessuna parte. Ora, pensate che quando parliamo di infrastrutture, non parliamo solamente di ferrovie, strade, autostrade, porti, aeroporti, non parliamo dell'autostrada Bari-Taranto che si ferma a 20 km da Taranto, non parliamo della strada per andare da Bari ad Altamura, che è una specie di cosa... non parliamo della statale ionica. Io sono stato due settimane fa in Calabria, ahimè, che neanche tanto, ahimè, dal lato ionico. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto la ionica, la 106, no? Nel tempo del Gran Toro si diceva che i viaggiatori, il gate e il resto, venivano a sud, dovevano firmare prima il testamento. Adesso stiamo ancora a quei livelli, perché questa è l'unica statale che ha quattro corsie, poi ha due, poi passa per i paesi, l'autoveloca costa 50 km. È una cosa incredibile, ci si mette, per arrivare a Crotone, ci ho messo sei ore, ma non solo questo. Allora tu passi per questa strada, al lato c'è la spiaggia, no? Sulla spiaggia, a 20 metri dal mare, sta la ferrovia. E non voglio neanche immaginare se un giorno il mare si agita, che cosa può succedere. Ecco, questa è la situazione del mezzogiorno. C'è la Salerno-Reggio-Calabria, c'è da 50 anni, il 21 febbraio 2011 sono stati festeggiati 50 anni dalla sua costruzione. E sta ancora là. Adesso il ministro Passera ci ha detto, ci ha detto, entro il 2013 sarà completata, ma non completata l'autostrada, completati i tratti che sono stati già finanziati, perché ne restano 80 km ancora da finanziare, altri 50 anni ce li siamo assicurati, no? Perché là il giochino è questo, ma non il giochino dei calabresi, il giochino dell'impregilo, che mi sembra non abbia un nome meridionale, questa grande azione, quella che doveva fare il ponte sullo stretto, quella che sta nella faccenda giudiziaria dei rifiuti di Napoli, quella che sta nella faccenda giudiziaria del terremoto dell'Aquila, ovunque ci sia magistratura c'è l'impregilo in mezzo. Era Lunardi. Sì, era Lunardi al tempo, sì, quella è stata l'unica autostrada italiana, perché insomma si fa un'autostrada al sud, però questo sud trasmette di pretendere le stesse cose degli altri, è stata l'unica autostrada di Europa che non aveva la corsia d'emergenza. Dice, a che vi serve? Non vi succede niente, no? L'Europa, quando se ne ha accolto l'Europa, dice, ma dove andate? E allora la stanno rifacendo continuamente. Allora, per quale motivo il mezzogiorno deve stare in queste condizioni? Il buon Dio, che il buon Dio se lo tenga in gloria, in grazia, così, quando ha disegnato l'Italia, stava il settimo giorno, quando riposava, no? Quindi stava un po' distratto. L'ha disegnata bella, lunga, nel Mediterraneo, e cioè è un posto dove tu non passi, ci devi andare. Allora, se la prima cosa che tu fai, elimini i collegamenti, elimini quello che serve a essere, diciamo, in sintonia insieme al resto del paese, elimini una delle fondamentali possibilità per questa parte del paese di svilupparsi. Poi, quando noi parliamo di infrastrutture, non sono solamente strade, autostrade, ci sono le infrastrutture sociali, che sono ospedali, asili, università, scuole, eccetera. Ci sono le infrastrutture immateriali, che sono la ricerca, lo sviluppo, la formazione, la sicurezza. Allora, noi siamo al 40% in meno rispetto al resto del paese e, nonostante questo, noi crediamo nell'unità d'Italia. Noi, all'ino nazionale, ci mettiamo la... quale si mette? La destra, la sinistra, sul petto, eccetera. 150 anni fa non c'erano queste differenze. Ora, su questo c'è una polemica, chi era più ricco, chi era più povero, eccetera. Era più ricco il Sud, pur potendosi conteggiare la ricchezza solo con dati economici. Era socialmente un po' più arretrato, su questo non ci sono dubbi. Ma complessivamente non c'è la situazione che noi abbiamo 150 anni dopo. Anche gli storici, quelli di potere, come li chiamo io, cioè quelli che non gliene importa niente di mettersi dalla parte dei vinti, stanno con i vincitori e se no chi gliele dà le cattese e chi glieli dà gli assistenti, chi glieli dà i libri universitari, chi glieli dà le consulenze e chi li fa andare in giro in televisione e tutto il resto. No, dalla parte dei perdenti non ci va nessuno. Anche loro ammettono che, quando anche ci fosse stato al momento dell'unità, un divario tra le due Italia non superava il 10%. 150 anni dopo, 40% in meno di reddito pro capita, 40% in meno di infrastrutture, triplo della disoccupazione, quadruplo della disoccupazione intellettuale, doppio delle famiglie povere, triplo dell'interruzione dell'acqua, triplo dell'interruzione delle energie elettriche, fermami, se no qua andiamo così, le diciamo tutte. Allora, eh? Tra un po' di chiedere di bere. Adesso. Allora, di tutto questo danno la colpa ai meridionali. Che colpe ce li hanno? hanno la colpa di aver accettato un meccanismo in base al quale l'unità d'Italia è stata fatta con una conquista militare, cui è seguita una guerra civile. Stabilite queste cose che a me nessuno più mette in discussione. Voi sapete che quando c'è un colonialismo arrivano prima i fucilieri e dopo arrivano gli uomini della finanza, cioè quelli che vanno a rubare le ricchezze, come in America vanno con le perline e si fregano loro. Allora, si stabilì che siccome loro erano i vincitori, anche per alcune ragioni legate al fatto che erano più vicini all'Europa, eccetera, la maggior parte, il grosso dello sviluppo industriale doveva avvenire al nord e il sud doveva vivere di quelle che erano le sue possibilità, soprattutto di agricoltura. Allora, di agricoltura solamente non vive nessuno. Ecco quindi come con questo meccanismo di conquista si stabilisce, anche se non ho scritto a tavolino, ma scritto anche a tavolino perché il primo governatore della Banca d'Italia, che si chiama Carlo Bombrini, un genovese gioviale con le battute, un somiglio a un milanese con le battute, eccetera, però disse questa cosa, perché ridete, disse questa cosa, il sud non dovrà più produrre uno spillo, il sud non dovrà più essere in grado di intraprendere, perché doveva stare tutto lì. Allora, il sud che cosa diventò in quel momento? Diventò il mercato di consumo dei prodotti del nord, il grande serbatorio di manodopera a poco prezzo, cioè emigrazione, il grande serbatorio di voti che manteneva in piedi questo meccanismo. Le elezioni da sempre, da 150 anni, si vingono o si perdono a mezzogiorno. Le elezioni primarie all'interno del PD, Bersani le avvente al sud, quindi vedete come noi qui abbiamo una possibilità di cambiare le cose se solamente ragionassimo e non facessimo valere un'appartenenza politica piuttosto che un'appartenenza territoriale e invece non facciamo nulla di tutto questo. Allora, questo meccanismo è continuato fino ai nostri giorni. Io perché ho fatto distribuire questa cosa? Compra sud, comprate sud, chi compra il panettone e il pandoro a Natale è un traditore del mezzogiorno. Ci abbiamo le paste di mandorle, ci abbiamo tutta un'ira di Dio. Allora, pensate che questo meccanismo, in base al quale il sud deve essere il mercato di consumo dei prodotti del nord, è ancora in piedi oggi. Noi oggi continuiamo a comprare il 60% dei prodotti settenzionali, allora, a quel nazifascista che appare in televisione e dice queste cose, bisognerebbe degli, svergognato, quali sono soldi nostri? Di che stai parlando che ogni anno dal nord scendono al sud 50 miliardi delle vostre tasse? Sono soldi nostri, vogliamo andare a vedere tutti gli ipermercati che circondano le nostre città? Vogliamo andare a vedere tutti i prodotti vostri che noi acquistiamo? Vogliamo andare a vedere un altro scandalo nazionale? Bevo prima di dirlo. Che è quello per cui le aziende settenzionali che lavorano al sud pagano le tasse al nord. Se le pagassero al sud, il sud starebbe in ben altre condizioni. Mettiamo solo l'ILVA in Puglia. Perché? Perché una legge nazionale stabilisce questa cosa. Pensate che recentemente c'è stata la fusione tra l'Alenia, l'Alenia stiamo parlando di un'eccellenza internazionale, se ce la potessero comprare a quattro soldi sarebbero, anche più di quattro soldi, sarebbero tutti felici, nonostante gli scandali, nonostante le cose che si leggono. Tra l'Alenia è l'Aermacchi. L'Aermacchi è una prestigiosa azienda aeronautica, ma rispetto all'Alenia è come il topolino rispetto all'elefante. Fanno la fusione. Si chiama Alenia Aermacchi la prima cosa che fanno? Spostano la sede legale da Napoli a Benegono in provincia di Varese. Il che significa che la produzione, i redditi, il lavoro, tutto quello che fa l'Alenia si fa al sud, il profitto delle tasse viene dato al nord. Di quello sono composti quei 50 miliardi dei quali parlano loro. L'altro giorno, stavo sul giornale, sulla gazzetta, un esempio fatto dall'ex vice capo della guardia di finanze in Italia, cioè non da uno, non da me, no? Questo si chiama Gaetano Nanula, il quale faceva l'esempio di un'azienda che produce al sud per mille, poi vende questi prodotti sempre al sud per mille e trecento. La differenza tra mille e mille e trecento, cioè il valore aggiunto, le tasse, le paga dove ha la sua sede legale. Capite qual è la questione? Se noi ci aggiungiamo a tutto questo, i nostri ragazzi che continuano ad andare al nord, i lavori che continuano a fare delle nostre parti, perché un'altra legge che è europea dice che per fare dei lavori pubblici tu devi avere una certa dimensione. Allora qui o facciamo l'associazione temporanea di imprese, cosa difficilissima perché dai meridionali che si mettono insieme, non so se potrà mai succedere una cosa, tipo la vallisa, no? Oppure vengono solo loro a fare queste cose. Allora questa è la situazione, noi siamo continuamente ingannati, attenzione, apriamo gli occhi su questo e poi apriamo gli occhi anche su un'altra cosa. Io voglio solo leggere alcune cose, però quando sto esagerando, mi fa uno sbadiglio, sarà per me il segnale, quando il signor Salvini dice noi siamo la parte produttiva del paese, dimentica il ragazzo che deve dire almeno la parte più produttiva del paese, altrimenti io devo dire che tutti voi dalla mattina alla sera, me compreso, non facciamo niente, producono loro, ci meniamo il ventaglio, no? Perché noi abbiamo il sole, il mare, la temperatura, ci sta proprio delle teorie scientifiche secondo cui il caldo fa male, poi ci sono le teorie scientifiche, quelle lombrosiane, secondo cui andatevi a vedere la testa quando andate a casa, mettetevi davanti allo specchio, se c'è una particolare forma siete delinquenti nati secondo il lombroso, ma le hanno prodotte tutte queste cose qua. Allora bisognerebbe rispondere a questo signore che se non ci fosse il soldo, tanto per cominciare l'Italia avrebbe più di un quarto in meno della sua ricchezza nazionale, stiamo in una situazione in cui non ci possiamo consentire neanche di perdere un euro, figurati un quarto della ricchezza, non ci sarebbe il 45% dell'acciaio prodotto in Italia, sia pure con i problemi dell'ILVA, non ci sarebbe quasi tutta la plastica prodotta in Italia, non ci sarebbe quasi tutto l'alluminio prodotto in Italia, non ci sarebbero tutti gli aerei prodotti in Italia, che si producono a Napoli, Foggia, Brindisi, Grottaglie. A Grottaglie si contribuisce a costruire l'aereo più avveneristico del mondo, il Dreamliner della Boeing, che si fa in fibra di carbonio, e lì fanno la fusoliera. Noi abbiamo, lo dico dopo, non ci sarebbe tutto il petrolio prodotto in Italia, che si produce in Basilicata, ora è il 10%, però i giacimenti della Basilicata sono i maggiori giacimenti di terra, non offshore, quelli marini, che stanno in Europa, e questo 10% non ci si può assolutamente rinunciare, adesso vogliono fare altre prospezioni, però noi siamo talmente stupidi, talmente stupidi, con una legge nazionale alla quale nessuno ha saputo opporre niente, meno che mai il Presidente della Regione, il Presidente della Regione Basilicata. In base a questa legge, le royalties, cioè i diritti che spettano ai lucani sui profitti fatti sul petrolio, ammontano al 10%, in un qualsiasi paese petrolifero del mondo, con uno di quei nomi che non sa manco dove sta a sto paese, almeno il 50%, si prendono come me, tu mi vieni a devastare il territorio, prendi una mia ricchezza, eccetera, mi dai la mancia del 7%, che è diventato 10%, perché l'ulteriore 3 è un bonus benzina, che danno ai lucani una volta all'anno, non ai lucani tutti, ai lucani sono quelli che hanno la patente, gli altri si spendono il danno delle prospezioni, però non hanno diritto. Ed è stato bloccato per tre anni questa cosa, perché la Regione Veneto ha detto, lo vogliamo pure noi, ha fatto un ricorso a Taro, tre anni ci hanno messo, quindi capite come noi ci facciamo ancora a depredare delle nostre ricchezze, non voglio parlare delle acque minerali, di tante altre cose, l'energia eolica e fotovoltaica, che lasciano 2-3% ai comuni per una cosa di questo genere. Se non ci fosse il Sud, noi non avremmo quasi tutti i farmaci prodotti in Italia, quasi tutti, compresi gli antibiotici, i distretti farmacologici stanno anche in provincia di Bari. Se non ci fosse il Sud, noi non potremmo far funzionare, questa è tremenda, attenzione, non potremmo far funzionare i telefonini e neanche i computer, perché i componenti fondamentali vengono prodotti soprattutto a mezzogiorno. Campania soprattutto, ma anche Puglia, e quella che si definisce l'Etna Valley in provincia di Catania. Se non ci fosse il Sud, l'Italia avrebbe metà della sua energia elettrica, non avrebbe quasi tutto il suo eolico e il fotovoltaico. Se non ci fosse il Sud, l'Italia avrebbe metà dei suoi camion, metà delle sue auto, metà dei suoi mezzi agricoli. Allora qualcuno può dire, sì ma è la Fiat, qualcuno può dire tu stai parlando di un apparato industriale che è in gran parte nelle mani del Nord e di imprenditori esteri. È vero questo, ma costoro non danno più del 20% del lavoro al mezzogiorno, l'80% è dato da imprese meridionali e noi continuiamo a ignorarla una cosa di questo genere. Pensate, questa potenzialità, che cosa diverrebbe se fosse messa nelle condizioni migliori per fare delle cose. Io vado in giro con Findustria Bari e Bat, sta facendo un giro per le industrie che è molto meritorio perché fa conoscere le cose nostre, ma non c'è un posto in cui vada, in cui non ti dicono, ci ho messo 20 anni per avere l'allacciamento dell'acqua, ci ho messo 30 anni per avere la fogna. Ieri mi è capitata un'altra cosa, non me la ricordo, va bene, comunque se me la ricordo la dico dopo. Se non ci fosse il Sud, beh, per gli uomini, non ci sarebbe tutta la sartoria di l'osso per gli uomini. Keaton, Borrelli, Saier, Rubinacci, Attolini, Marinella, tutte queste, Marinella fanno schifo le cravate, però c'è questo nome per cui vengono da tutte le parti. Se non ci fosse il Sud non ci sarebbero le vacanze al sole, e vogliamo dire, se non ci fosse il Sud non ci sarebbe l'olio d'oliva buono come il latte della mamma, se non ci fosse il Sud non ci sarebbe la dieta mediterranea. Questo è un altro degli esempi, delle nostre ricchezze che noi non riusciamo a valorizzare. La dieta mediterranea, mica l'abbiamo scoperta noi, l'ha scoperta il più grande scienziato dell'alimentazione mondiale, che è un americano, il quale seppe che in una regione italiana si campava più di 100 anni, era il Cilento ed era soprattutto il paese di Pollica, quello del sindaco Vassallo, ammazzato dalla mafia. Venne qui, non solo è campato 103 anni, è la moglie 98, però ha fatto diventare la dieta mediterranea, diciamo un fatto noto a tutti, io voglio chiedere alle signore però, voglio chiedere alle signore, però dovete rispondere sinceramente, perché me ne accorgo, fa subito il naso lungo. Sino a una decina di anni fa, avreste mai invitato qualcuno a casa dandogli fare cicorie? Non credo. Avreste fatto una bolognese, una cotoletta alla milanese, tutte queste cose, quelli vengono qua, vengono da tutto il mondo per mangiare fare cicorie. Noi siamo entrati con la dieta mediterranea, quest'acqua è buona, campana, comprate sud, non comprate le acque del nord, ogni prodotto del sud che noi compriamo a preferenza di un prodotto settentrionale è un posto di lavoro per i nostri figli, ricordiamoci sta cosa. Allora, la dieta mediterranea è entrata nel patrimonio universale dell'UNESCO, ma non la dieta mediterranea italiana, perché non è mai stata difesa dal nostro governo negli organismi internazionali. La dieta mediterranea in generale è compresa una tunisina, un'egiziana e una libanese. Cioè, stiamo a mettere a confronto il couscous con fare cicorio, con patate di risaccozza, eccetera, ma di che cosa stiamo parlando? No? Allora, un'ultima cosa, un'ultima cosa. Andando in giro, io ho censito 71 eccellenze del mezzogiorno, potevano essere 250, l'editore a un certo momento ha detto fermati perché il libro non può essere più lungo di 247 pagine, ho imparato. In provincia di Monopoli due ragazzi di 30 anni costruiscono l'aereo superleggero più veloce del mondo, black sheep. Se noi sapremo se ci sono i marziani, lo dovremo ad un'azienda Cital. Sei preparato? In provincia, a Modugno, in provincia di Bari, dove hanno costruito il sensore in grado di resistere nelle condizioni più estreme che adesso sta montato sul robot che sta su Marte e ci sta dicendo tutti i fatti, come si dice a Oxford. Però siccome noi siamo sempre in grado di rovinare anche le nostre cose migliori, questa azienda per tre anni ha chiesto l'autorizzazione ad ingrandirsi, non a chiudere, a ingrandirsi, per tre anni non ha avuto risposta, abbiamo rischiato di perderla, abbiamo rischiato che Vito Pertosta se l'andasse all'estero e per fortuna l'abbiamo conservata. Perché questo è il nostro difetto, cioè dove noi abbiamo le eccellenze, lì abbiamo anche i nostri problemi, perché non sappiamo, questo è un difetto solamente meridionale, non ce lo possiamo prendere con nessuno. A Bari c'è San Severino che ha trovato il metodo, il modo per separare l'acqua di mare dal petrolio, pensate che cosa, in provincia di Caserta c'è un altro imprenditore in grado di rendere biodegradabile la plastica. A Dubai, dove non sanno come gli devono spendere i soldi, stanno costruendo un grattacielo che si muove, si orienta, cioè quelli vogliono sempre il sole, magari fa un caldo dalla malora, quindi la mattina sta verso l'est e poi il pomeriggio si girano e vanno verso ovest. Il meccanismo per fare questo giochino lo stanno facendo un'azienda in provincia di Altamura, ce ne stanno 71 di queste cose, di tutti i generi, e sono una meraviglia per noi, soprattutto per noi. Allora io faccio una domanda, ci avviamo alla conclusione. Perché noi... Io faccio una domanda. Ah sì, sì, scusa, ma io te l'avevo detto. Allora, perché noi siamo capaci di fare tutte queste cose? Non siamo capaci di farcele riconoscere? E poi dobbiamo essere definiti incapaci di qualsiasi cosa. Perché noi andiamo al nord e diventiamo sempre sistematicamente i migliori di tutti quanti? Tanto che è tale il pregiudizio nei nostri confronti, che se uno funziona al nord, gli dicono tu non sempre meridionale, ma come ti viene? Devi essere brutto, sporco e cattivo, incapace, inetto, inefficiente, eccetera. Come dicono per esempio dei nostri insegnanti e dei nostri alunni. Quando i nostri alunni sono primi in alcune classifiche, dicono, vabbè, sono gli insegnanti che sono di manica larga. Sono gli stessi insegnanti, in gran parte, che insegnano anche al nord, allora non si riesce a capire una cosa di questo genere. Bene, noi dobbiamo renderci conto di tutto questo, perché questo ci dà un orgoglio, ci dà una capacità di capire di cosa siamo capaci e anche di capire di che cosa siamo incapaci, perché poi, diciamo, il male ce lo procuriamo noi stessi. Ma pensate, e chiudo veramente, il pregiudizio dei nostri confronti è tale. Io faccio solamente l'esempio per capirci bene. I sassi di materia. Subito dopo il dopoguerra, quando ci andò De Gasperi, eccetera, vergogna d'Italia. 40 anni dopo, patrimonio universale dell'umanità. Bene, il mezzogiorno è questo. Ok. Poi vi dico i vostri difetti. Come Lino ricordava, ovviamente noi ci avviamo verso la conclusione. Tu hai parlato di pregiudizio, però è anche vero che come insegna Guicciardini, nel tuo libro è scritto, le difficoltà rappresentano però anche delle opportunità. Fuoco del Sud si conclude con una domanda. Tu l'hai fatto concludere con una domanda. Cosa fare? Ad oggi, nel momento in cui parliamo appunto di Ricomincio dal Sud, dopo tutte le ricerche che tu hai fatto, anche per rendere ancora più ricco quella teoria che tu porti e esponi davanti a tante persone che ogni volta ti seguono e vengono veramente catturati dai tuoi racconti basati su un'estrema realtà. Non c'è niente di inventato, soprattutto colorito, in modo da far rendere il nostro Sud più bello. Queste sono delle cose che realmente appartengono al nostro territorio e che è giusto che ognuno di noi, per chi è un pochettino più adulto e ha vissuto già tanta storia, o anche per chi è giovane, è giusto che si sappiano. Arrivati a questo punto ci diciamo, lo chiediamo ancora una volta, cosa fare? Avete visto quanto è bello? Questa è un'eccellenza del Mezzogiorno. Tieni la sottotutela. C'è anche mia madre. Anche la signora. Quindi, allora, ci sono delle cose che noi dobbiamo pretendere da altri, che sono i nostri rappresentanti politici, e ci sono delle cose che dobbiamo fare da noi stessi. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare da noi stessi è il comprasud, che non è una sciocchezza. Io ho un capitolo del libro, l'ho intitolato Una giornata di Nicola Cassano, Nicola Cassano perché fosse chiaro che è meridionale dalla testa ai piedi, il figlio di Nicola Cassano, di cui Paolo lo chiamo Vitino Cassano, e non come Antonio Cassano, il calciatore che ha chiamato il figlio Christopher. Voi vi immaginate col suo eloquio, quando chiama il figlio, non voglio neanche immaginare come caspito, quello lo farò venire complessato col bambino. Sì, ma è se cosa... Allora, Nicola Cassano, da quando si sveglia la mattina, quando va a dormire la sera, utilizza solamente prodotti e servizi settenzionali, stanno paese per paese, made per made, eccetera, e io dimostro, perché l'ho sperimentato, che sono tutti prodotti che hanno un equivalente meridionale. Cominciamo a vedere l'etichetta, ripeto, ogni prodotto meridionale a preferenza di uno settenzionale è un posto di lavoro per i nostri figli. Due, c'è una citazione di madre Teresa di Calcutta sul libro che dice «Sì tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo». Quindi noi dobbiamo uscire dalla mentalità in base alla quale il fatalismo del non cambia mai niente, del tanto non vale la pena, ma che me ne importa, tanto le cose vanno sempre, tanto il 27 io ce l'avrò sempre, finché ce l'avremo, il merito non viene riconosciuto e tutto il resto. Questa è la peggiore malattia della quale noi possiamo soffrire, che è una conseguenza della condizione nella quale siamo stati ridotti, perché l'assistenza, se tu devi vivere di agricoltura, devi essere per forza assistito. Cioè la condanna all'assistenza è cominciata 150 anni fa. Ci sono, è uscito recentemente un libro di uno di questi storici ufficiali che si chiama Paolo Magri, un napoletano, insegna Napoli e l'epicentro dell'antimeridionalismo, perché vivono ancora la sindrome della capitale perduta. Quindi loro devono essere i più risorgimentali possibili perché si vergognano del loro passato. Questa è la verità. Ora io con i Borboni non ho mai fatto nessun patto, non sono mai andato a giocare a pallone, niente di tutte queste cose. Però dobbiamo riconoscere certe cose. Allora, questo storico dice che siccome una delle più grandi sorprese che ebbero coloro i quali fecero l'Italia è trovare un mezzogiorno non prono, non sottomesso immediatamente, cioè ribelle, riottoso, la guerra al brigantaggio, non fu solamente brigante, fu una guerra civile, parliamoci chiaro. Allora, questa cosa li sorprese molto perché avevano avuto descrizioni del mezzogiorno, diciamo anche in parte dei patrioti nostri che erano andati in esilio, secondo le quali descrizioni appena fossero arrivati loro noi saremmo, avremmo inneggiato ai liberatori. Ma chi li ha chiamati questi liberatori? Ora, con questo non voglio mettere in discussione l'unità d'Italia, per carità, l'Italia grazie all'unità è passata da paese povero a una delle dieci potenze mondiali, però è stato fatto a danno del mezzogiorno, cioè non è possibile che un paese che cresce in maniera tale da diventare uno dei dieci più ricchi del mondo, poi una sua parte del paese la fa decrescere in questa maniera. Ti viene il sospetto che la parte più ricca viva perché c'è una parte meno ricca e viceversa. Questa è la sostanza delle cose e l'economia lo dimostra. Allora, quando tu sei condannato all'assistenza, ti lascia andare, perdi lo spirito imprenditoriale, quello che diceva Bombrini, non sarà più in grado di intraprendere e quindi noi dobbiamo uscire da questa mentalità che continua a fare danno solamente a noi stessi. Noi dobbiamo fare, prima si diceva un fioretto al giorno, facciamo una cosa eccellente al giorno. Io faccio sempre l'esempio che magari sarà banale, la faccio per la sanità, ma si può applicare alla scuola, a tante altre cose eccetera. La buona sanità, è vero che è quella dove stanno i mezzi, le pet, le risonanze, non ne parliamo neanche di queste cose, ma la buona sanità è fatta da un portiere giù, da un portantino, da un infermiere, da un caposale, da un medico, da un primario, da un direttore di clinica eccetera. Se ciascuno desse il massimo di se stesso ogni giorno, la somma di questi comportamenti virtuosi individuali, diventerebbe comportamento virtuoso collettivo. Noi abbiamo il dovere di fare tutte queste cose, perché quando si dice, c'è una intervista a Veneziani che dice un dio terrone ci potrà dare una mano, ma l'altra mano ce la dobbiamo dare da noi stessi. È vera questa cosa, estremamente vera. Poi noi dobbiamo cercare di pretendere dei nostri politici che ci rappresentino meglio, questa è la verità. Però questo è avvenuto per tutti i 150 anni, perché quando vivi di assistenza, il politico più bravo è quello più capace di far arrivare i soldi. Poi come vengono utilizzati questi soldi eccetera. Noi abbiamo per esempio migliaia di opere per le quali è stato fatto il primo lotto e il secondo lotto, qualcuno se l'è dimenticato. Ci sono cimiteri di aziende che avrebbero dovuto diventare vere aziende, sono rimasti i capannoni, questi sono i forti che ci hanno fatti quelli del nord. Allora, vedete come i nostri politici, è difficile il discorso, è complicato, non è facile uscire da questo meccanismo, per quanto qualcuno nel resto del paese, nel nord, ha fatto valere più l'appartenenza territoriale che quella politica. Io faccio solamente un esempio, tanto per capirci. Un paio di anni fa, due o tre anni fa, in occasione della cosiddetta legge mille pro, che è quello che fanno a fine anno, distribuiscono soldi un po' a tutti quanti. La Poli Bortone, perché lo fece lei, non c'è nessuna appartenenza, la Poli Bortone fece un emendamento in base al quale l'alta velocità, capacità ferroviare Bari-Napoli, quando la faranno, arrivasse fino a Lecce, non si fermasse a Bari come era previsto inizialmente, a che serviva? Lì c'è il turismo e tutte le cose eccetera. Bene, quell'emendamento fu bocciato da tutti i parlamentari dalla maggioranza del tempo, compresi i parlamentari pugliesi e compresi i parlamentari leccesi. Capite di che cosa stiamo parlando? Allora, come rompere questo meccanismo io non lo so, non lo so, non so. Io sto cercando di costituire un piccolo movimento, partito eccetera, è complicato perché poi le eliti fa di loro, non vi dico che cosa succede. Che dice, per esempio, non vogliamo avere a che fare con la Lega Nord in nessuna maniera, che la Lega Nord ci ha rovinato il federalismo, un'altra truffa ai danni, questo signore Salvini parla sempre di sacco del sud, del nord, cioè saccheggio del nord, il saccheggio che il sud farebbe sistematicamente ai danni del nord. Nel libro ne ho contati 29 ai danni del sud, 29 contro 1. Volete sentirne uno? Non ti preoccupare, Michele, faccio subito. Si dovranno permettere di sbagliare. Allora, uno dei sacchi, ci staranno degli insegnanti in giro, no? Stanno sempre. Le donne. Bellissimo. Allora, uno dei sacchi ai danni del sud è stata l'eliminazione dai libri scolastici, come si chiamano i libri scolastici, di una serie di autori meridionali, i quali sono stati eliminati perché erano dei poveri a loro, come si dice, no? Allora, vediamo un po' di nomi. Quasimodo, cos'è, geometra, ragioniere, no? Ho avuto un premio Nobel, chissà come li è capitato. Vittorini, Sciascia, Bufalino, Gatto, Scotellaro, Brancati, Silone, Sinisgalli, Piccolo, Ortese, Rea, Tommasi di Lampedusa. Sono incapaci o sono solamente meridionali? Allora, questo è uno dei sacchi ai danni del sud, però noi dobbiamo uscire da quella mentalità e poi dobbiamo fare anche un'altra cosa. Attenzione, si sta diffondendo, forse partendo anche dalle scuole, un sottile veleno a mezzogiorno. E' stata fatta da Confindustria Baribatto, una indagine fra i ragazzi delle terze medie di una serie di scuole di provincia di Bari, un campione di 250 ragazzi, ma insomma abbastanza significativo. Per oltre il 50% hanno detto che loro, quando saranno più grandi, andranno via dal mezzogiorno. Stiamo parlando di ragazzi di 13-14 anni che hanno davanti il liceo, l'università, alla ricerca del lavoro, hanno davanti la vita e già cominciano a dire cose di questo genere. Questo è un veleno terribile perché ci condanna già ad un qualcosa che pare ineluttabile e invece io nel libro la cosa che voglio fare è dimostrare che yes, we can. Sì, noi possiamo qui e noi voi siete la dimostrazione vivente del fatto che si può qui. Le 71 eccellenze sono una dimostrazione vivente di tutto questo. Certo con maggiore difficoltà, certo con sacrifici eccetera, ma si può, non è possibile. Voi ha corato? Farmalabor è di corato? Farmalabor? Sì, è di corato. Sì, sì, sì. Sono fai brutta figura. È di corato. Questa azienda farmaceutica che produce i componenti delle preparazioni galeniche, no? Solo che è la prima al mondo, forse in Europa, non voglio esagerare, che la produce in quantità già frazionate e non in quantità complessive, nel senso che quando arriva al farmacista immediatamente può fare il preparato. L'altro giorno stava in Rai 3, al televisione della mattina, adesso stanno ricavando dall'uva di Troia, un componente, un qualche cosa che messo nelle vasche dove si fa l'allevamento dei pesci, rende sani i pesci perché lì invece ci possono essere infezioni, ci possono essere infiammazioni, cose di questo genere. Allora, questo è un farmacista che mi dicono ricco di corato, perché è il farmacista, perché è chiaro. Allora, il quale si è messo, non mi ricordo come si chiama, sta nel libro, si è messo in gioco, no? Ha voluto, vedete come le cose si possono fare, basta volerle fare, basta convincersi della possibilità che queste siano fatte. Un'ultima cosa voglio dire, io non ho voluto molto insistere sul nord e sul sud, perché a me del nord onestamente non mi frega niente, cioè noi non dobbiamo commisurare le nostre cose sul nord, noi siamo il futuro d'Italia e siamo il futuro non solamente d'Italia, perché chi continua a parlare di nord e sul non ha capito niente, tutta l'Italia ormai è sud, la Germania, la Svezia eccetera, ci trattano tutti come sud e non si rendono conto che anche la Germania, la Scandinavia, sono il sud del mondo in questo momento, il nuovo mondo è quello che la Cina, l'India, la Corea del Sud addirittura, e il nuovo mondo è quello che si sta creando nel Mediterraneo. Lì hanno fatto delle rivoluzioni, sono stati un po' traditi, non hanno raggiunto il risultato che si voleva raggiungere in Tunisia, in Egitto eccetera, ma pensate solamente una cosa, a parte il fatto che il Ghana è il paese che cresce di più al mondo, l'ho detto prima, nella classifica dei dieci paesi che crescono di più, cinque sono africani, e noi continuiamo a considerarli africani, no? 150 milioni della popolazione complessiva di Nord Africa, Maghreb, di tutte quelle popolazioni, sono giovani che hanno meno di 30 anni, i quali avranno bisogno di prodotti, di istruzioni, di viaggi, di rapporti, di tutte queste, hanno fatto quelle rivoluzioni, chiamiamole come vogliamo, attraverso internet. Vedete come la rete collega, noi dobbiamo parlare di cittadinanza mediterranea, non di Nord, solo di cretinate di questo genere. E poi veramente un'ultima cosa, promesso, dite ai vostri ragazzi, non li scrivete più a giurisprudenza, per favore, per favore, guardate, facciamo un fioretto prenatalizio stasera, non perché uno non possa fare l'avvocato, ma perché non funziona più come prima, prima ci si scriveva a giurisprudenza, ma dico giurisprudenza come scienze della comunicazione, come tante, perché dice tanto dopo dà un sacco di sbocchi. Io conosco ragazzi che stanno ancora alla ricerca di questi sbocchi, nel frattempo cominciano a fare un master, poi un altro, abbiamo la gioventù più masterizzata d'Italia, ma è una frase d'attesa, non funziona più così. Pensate che in Germania, ma questo dipende dalle leggi nazionali, ma le leggi nazionali si fanno anche sulla pressione della gente, abbiamo Grillo per la miseria, abbiamo il referendum, abbiamo internet, abbiamo tanti mezzi per farci sentire rispetto al passato. In Germania l'università, l'alternanza scuola-lavoro, università-lavoro, raggiunge già il 60%, in Italia solo i 10%, significa che se uno si iscrive a giurisprudenza, guardate, io quando si parla di orientamento scolastico, dico ma come è possibile che uno a 18 anni non sa che cosa deve fare nella vita? Con tutte le possibilità che ci sono adesso, per cui deve andare brancolando, eccetera. Quelli invece, se uno si iscrive a ingegneria, cominciano a frequentare i cantieri, cominciano a frequentare le aziende, in modo che arrivano preparati al momento del lavoro. Quindi internet, internet è un mezzo col quale si cancella la geografia, con quale si diminuiscono o si cancellano i divari territoriali. Guardate, nel libro stanno casi incredibili di che cosa si può fare con internet, perché internet tu puoi stare in un qualsiasi posto al mondo, in un deserto, e lavorare per l'industria tecnologica più avanzata del mondo. Alla inaugurazione del Politecnico di Bari, per il secondo anno consecutivo, primo in Italia per quantità e livello di produzione scientifica, non l'ha pubblicata nessun giornale in Italia, perché il primo giorno in cui scopriranno un topo in uno scantinato del Politecnico finirà su tutti i giornali d'Italia. C'è stata la testimonianza di questa ragazza, il cognome, il nome non lo so, non mi ricordo, il cognome Le Grottaglie di Conversano, architetto, il quale da Conversano ha cominciato a lavorare per l'Ansaldo, adesso sta negli Stati Uniti, temporaneamente la tornerà, lavora alla costruzione della nuova metropolitana di Onolulu, dopo aver lavorato alla costruzione di un metropolitano e di tanti altri posti. Il proprietario di quell'azienda dove fanno l'aereo superleggero più veloce del mondo, con la sua azienda, ha vinto l'appalto per la nuova metropolitana di Londra, fa il treno diagnostico, c'è un treno che passa sui binari, c'è tutti i difetti, le cose che vanno, che non vanno le gallerie e tutto il resto. Un ragazzo di Bisaccia, Bisaccia, do you know? Bisaccia, Avellino, non stiamo parlando di New York, Seattle, eccetera, gestisce le campagne pubblicitarie delle rock star americane attraverso internet. Da un altro posto del sud, un giovane collaborano alla creazione dei programmi di Google. Sul libro ce ne stanno decine di casi di questo genere. Quindi dite ai vostri ragazzi di imparare l'inglese e internet e dite che l'ho detto io. Un'ultima cosa, prometto. Ma loro sono contenti di ascoltarti, non so se hanno da fare qualcosa. Di che cosa? È di Canossa, sì, sì. Ah, scusa, è il presidente Coratin, certo, è un incidente. Io ho detto, non ho voluto parlare un minuto di nord e di sud, però ci possiamo pure divertire. Cioè, noi siamo la civiltà del pane, loro sono la civiltà dei crisini, noi siamo la civiltà dell'olio d'oliva, loro sono la civiltà del burro. Gian Battista Vico diceva che quando Roma era un accampamento di capanne, Pitagora già insegnava matematica a Crotone. E infine c'è una citazione sul libro, dal film Così parlò Bellavista. Sapete che un milanese che va a lavorare a Napoli è tutto basato sulle differenze di modi di fare, di costume, eccetera. Allora i napoletani si accorgono che questo qua, il milanese, non beve il caffè a Napoli, beve il tè. Allora, uno napoletano dice all'altro, quello non beve il caffè, beve il tè, ma non è che per far vedere a noi, è che gli piace davvero. Ecco, questa è la differenza tra noi e loro. Prima di salutarci, se ci sono domande da parte vostra, Lino Patrono è qui. Ecco, professore. Ciao, professore. Ho avuto il piacere di leggere il libro perché ho assistito alla precedente presentazione alla SECOP ed è stato, come al solito, entusiasta nella sua esperienza perché ti spinge, insomma, ad alleggia, approfondire, poi i richiami e devo dire che ho fatto pure l'uso di internet perché molte cose non erano molto esplicitate e quindi le volevi approfondire. E quindi, veramente, però, ecco, detto questo, c'è bisogno che Benigni parli della Costituzione per far conoscere la Costituzione? Non è uno dei nostri deficit come genitori, come cittadini, come insegnanti e quant'altro? Quanti dei nostri concittadini sanno che esiste, non so, uno statuto comunale? Eh? E nell'ambito di questi istituti di partecipazione. Quante persone vengono ai consigli comunali? Siamo sempre quattro o cinque. Quanti conoscono, per esempio, il titolo quinto della Costituzione dove si parla del principio della sussidiarietà. Quello della solidarietà lo conosciamo tutti, eh? Andare a chiederle l'emosina alle istituzioni. Ma fare in maniera che queste facciano il loro dovere, alla luce dei principi costituzionali e previsti nei rispettivi statuti, allora a noi manca la capacità di fare rete. Siamo capaci di venire qua, pochissime persone devo dire, perché tu con la tua presentazione e con questo Vangelo, chiamo io, il tuo libro, avresti bisogno, però siamo lieti che sei venuto tre volte a Corato, quindi un'attenzione verso di noi. Però noi Coratini faremo tesoro di quanto dici e scrivi anche sulla Gazzetta. Grazie. Professore, hai toccato un punto importante che io avevo messo di toccare perché Michele mi dava calci da sotto e diceva smettiamola qua. La cittadinanza attiva, signori, mettiamoci insieme e facciamo valere i nostri diritti. Riempiamo gli spazi vuoti, perché ovunque c'è uno spazio vuoto si intromette o la cattiva politica, o gente che non ha nessun valore, o la malavita. E lo spazio vuoto è solamente, io quando vedo certe grandi periferie con gli spazi vuoti ho terrore di che cosa possa capitare in quei posti. Ho avuto la fortuna, lo dico brevemente, senza scherzi, di intervistare Federico Rampini, giornalista di Repubblica, eccetera, a un festival, un lector in favola conversano, il quale parlava dalle esperienze degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono la più grande democrazia del mondo, un paese di oltre 300 milioni di abitanti. Però non c'è marcia a piede rotto, buca nella strada, lampione che non funzioni, per cui non si costituisca un comitato di cittadini per risolvere quel problema. Questa è la cittadinanza attiva, questa è la partecipazione, questo è il modo di fare rete, questo è il modo di non attendere che siano i nostri politici che risolvano i nostri problemi, il che più delle volte non avviene, ma anche perché loro non sentono il nostro fiato addosso, che non è una maniera per metterli in moro, è una maniera per dargli anche sostegno rispetto a certe cose che devono fare. Facciamo tutto questo, per esempio adesso c'è stata una legge regionale sui cosiddetti GAS, gruppo di acquisti solidali, che sono una forma di autodifesa nostra, 30 persone, 40 persone si mettono insieme, vanno in un ipermercato e gli dicono vuoi dare a queste condizioni, andiamo a un altro, impongono i prezzi di mercato invece di subirli. Sono sviluppatissimi al nord, sono tre volte di più al nord, dove hanno meno bisogno di noi, visto che sono più ricchi di noi. Poi ci sono le forme che si chiamano co-housing, tutte cose inglesi, ma insomma c'è un libro qui dentro per mostrare di San Tommaso, che è l'economia del noi invece dell'economia dell'io. Si mettono d'accordo gli abitanti di un palazzo, di un parco, di un piccolo quartiere eccetera, per risolvere problemi che altrimenti... la sussidiarietà di cui hai parlato, una sala condominiale insieme, il giardino, l'asilo diffuso, le mamme che non lavorano, prendono i bambini degli altre mamme e se li tengono in asilo in casa così evitano il problema degli asili pubblici, non ci sono degli asili privati che costano morti. Il co-working, dite ai vostri ragazzi di mettersi insieme, da soli si perde, mettendosi insieme. Tutti gli esempi di successo che stanno in questo libro dipendono dal fatto che sono dei ragazzi che sono messi insieme a fare delle cose, si danno coraggio, si scambiano esperienze, acquisiscono una tenacia e una convinzione in se stessi che altrimenti si perde. Allora queste sono le cose che stanno nelle nostre mani, quando dico il dioterrone è ciò che sta nelle nostre mani. Se noi riusciremo a fare questo nonostante il nostro individualismo, forse avremmo fatto un passo avanti. In Sicilia c'è l'addio pizzo, si sono costituiti, questi sono commercianti che si mettono insieme e nessuno li tocca più, vedete come fare rete importante. Poi c'è internet che è un mezzo straordinario, col quale ci si può parlare continuamente. Non so voi, andate su Facebook, uno si alza la mattina, stamattina mi sono alzato, stanotte non ho dormito. E tutte queste storie qua. Le citazioni sono bellissime. Posso leggere una citazione breve? Ma non so se ce l'ho. Una citazione, ecco, bellissima. Sì. No, vabbè, sì, sì, è una più bella, professore, attento. Allora, però non vi dico chi è l'autore. Cioè, c'era Darwin, quello che diceva, non si impone quello più forte, ma si impone quello più capace di adattarsi al cambiamento. Noi viviamo un tempo di grande cambiamento, tutto si sta muovendo. Noi dobbiamo, questa duttilità, i nostri ragazzi, per esempio, rispetto a noi, ma non troveranno assolutamente il nostro tipo di lavoro, i nostri posti fissi, il tempo indeterminato, eccetera. La capacità di adattarsi diventa una chance vincente. Allora, il cambiamento. Non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose e ad avere gli stessi comportamenti. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni. Stai zetto. E le nazioni, perché la crisi... Il mondo è come lo vedo io. Ma non devi... Ma scusa, quando un dice la Barzelletzi, la so. Stai zetto. 34. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e le sue difficoltà violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi è la crisi dell'incompetenza. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d'uscita. Cioè, il vostro artista, non sapere che farne alla vita, capire? Si è messa a raccogliere queste cose qua e ti è diventato un numero uno. Sto scherzando, ma questo per dirti. Ci vuole anche coraggio a fare cose di questo genere. Il concetto della crisi, io lo ripeto da anni, è una fortuna per chi non ha mai avuto nulla, perché in poche parole... Crisi in cinese vuol dire opportunità, per esempio. Sì, sì, vi faccio subito un esempio. Ho inserito in un... i collezionisti che comprano, detto in breve, sono stati infinocchiati dagli ultimi dieci anni, dieci, vent'anni, soprattutto io parlo della Puglia, ma anche in Italia, dal critico che presentava... Insomma, c'era un da vai, per arrivare a un collezionista era difficilissimo. Cosa succedeva? Che automaticamente era un fatto di conoscenza. Entra Facebook, entrano i vari motori di ricerca, la collaterale di Andy Warhol, chi cerca Andy Warhol trova Vincenzo Mascoli, dalla Germania si comprano un pezzo di Vincenzo Mascoli. Modesto, eh? No, ma è verità, è verità. Prenda un concetto molto rapido... È così, è così. Nell'arrivare all'artista o al giovane artista, che non ha contatti o comunque può crearsi. Concludo. L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e via d'uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno di noi, perché senza crisi tutti i venti sono lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi e saltare il conformismo. Invece lavoriamo duro, finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla. Stai zitto. L'autore di questa cosa, se non l'avete sentito, è uno che andava, era ciuccio a scuola e aveva una forma di autismo impercettibile, il carattere solitario e interessi ristretti. Si chiama Morbo di Asperger, è quello che ha Adam Lanza, il ragazzo che ha ammazzato 21 studenti in America. Si chiamava Albert Einstein. Grazie a voi tutti per essere intervenuti, grazie soprattutto per l'attenzione, anche se quando c'è l'inopatruno è una cosa che viene molto molto facile. Grazie per essere intervenuti, la prossima presentazione è qui sempre presso lo spazio 17, fissata per gennaio, data ancora da definire. Domani saremo online sul sito di AV Production, grazie alle riprese e alle fotografie sicuramente che saranno... E aspetta! Grazie ad Ottavio Mastrapasco e soprattutto ricomincio dal sud e un ottimo regalo di Natale. Grazie!